Ciao a tutti, ben ritrovati o benvenuti per chi non fosse mai passato sul mio canale e come ogni mercoledì raccogliamo le ultime news all'interno del mondo cripto. Prima di partire ragazzi, come sempre, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, link in descrizione al canale Telegram dove, oltre a condividere i contenuti di YouTube, vi aggiorno con qualche news dell'ultima ora e qualche interessante promozione all'interno del mondo delle cripto. Quindi mi farebbe un sacco piacere avervi anche lì. Partiamo, come al solito, con il grafico di Bitcoin. La Burran sta ripartendo, questa è un pochino l'incertezza dell'ultimo periodo. Andiamo a fare caso ad alcuni dettagli rispetto a settimana scorsa, perché considerate che noi ci siamo sentiti circa il 9 di giugno, quindi per metà settimana, come al solito. Guardate che cosa è successo, c'è stato un bottom di circa 34.000 dollari. Da lì siamo ripartiti a bomba e siamo arrivati ad un picco di 41.000 il 14 giugno, che addirittura è stato replicato il 15, quindi nella giornata di martedì. Oggi, come vedete, Bitcoin dà segnali di debolezza, perché era riuscito a superare la soglia dei 40.000, che tra l'altro io vi segnalo con un'altra barra, orientativamente qui. Ma purtroppo è sempre stato molto altalenante, quindi questo livello lo ha superato più volte, è riuscito a toccare anche 41.000 su alcuni exchange, ma non è mai riuscito a resistere, quindi a far diventare questa resistenza, questi 40.000, un vero e proprio supporto. Fino ad oggi che poi ha iniziato ed è tornato a scendere. Qual è la situazione? Io personalmente continuo a vedere un trend, secondo me, altalenante, che addirittura potrebbe trasformarsi nel brevissimo periodo, a causa di queste due medie mobili che vedete, la media a 200 e la media a 50, che si stanno incrociando. Se fate caso, tutti stanno parlando della possibilità di un dead cross. Il dead cross è proprio questo incrocio, chiamato incrocio della morte, di queste due medie. Queste due medie, teoricamente, in un'analisi tecnica classica, quando raggiungono un incrocio, si scende sempre a seguito di un evento simile. Quindi molti si aspettano non tanto una risalita, quanto una discesa, una discesa che potrebbe continuare comunque a toccare i supporti molto forti a 30.000 e 28.000 dollari. Ricordatevi, io non sono un esperto di analisi tecnica, faccio delle mie valutazioni a seconda, ovviamente, della mia esperienza e delle informazioni che raccolgo. Proprio in merito a quanto il grafico ci sta dicendo, guardate Michael Van de Popp, vi ho già trattato e parlato di lui qualche volta, a me piace tantissimo la sua analisi. Guardate come sta quasi rispettando più o meno la sua prediction, sembrerebbe sia un pochino in anticipo Bitcoin. In considerazione di questi dati ci potrebbe essere sicuramente un debt cross, magari un po' più segnato rispetto a quello che ha segnato lui, quindi in anticipo scendere fino magari a degli intervalli come 30-35.000 dollari, quindi ritornare su quei livelli, per poi potenzialmente ripartire. Quindi io non parlerei tanto di bull run, di trend ribassista o trend rialzista, semplicemente noi dobbiamo vedere adesso come evolveranno differenti situazioni. Io mi aspetto nel brevissimo ancora un'altalena, quindi anche una discesa, per poi riprendere verso luglio-fine giugno il trend rialzista che è stato protagonista nell'inizio di quest'anno, di questo 2021. A seguito anche di questa candela, questo insieme di candele che vedete in verde, con molta probabilità questo entusiasmo è stato un pochino portato avanti dal tweet di Elon Musk che è qui. Per me questo tweet possiede un insieme enorme di inesattezze e conferma un'ennesima volta quanto lui sia interessato alla manipolazione del mercato invece che il contrario. Perché nel momento in cui lui mi informa che ha venduto solo il 10% degli holding di bitcoin per quanto riguarda la società Tesla, sottolineando come anche avendo venduto questa quantità non ci siano stati dei movimenti di mercato importanti, secondo me sta dicendo una bagianata perché nel momento in cui noi andiamo a vendere delle grosse quantità di bitcoin lo possiamo anche fare su un intervallo di tempo abbastanza ampio. Nel momento in cui mettiamo dei piccoli ordini noi non riusciamo ad influenzare il mercato, anzi cerchiamo e siamo interessati a vendere il più possibile al prezzo più alto. Se noi vendiamo con un ordine bello compatto tutto il nostro quantitativo in bitcoin soprattutto per grossi volumi rischieremo di avere alla fine un prezzo medio di carico differente rispetto a una diluizione. Quindi secondo me questa è una cavolata quella del fatto che non ci siano stati i movimenti di mercato. I movimenti di mercato li puoi creare o meno se hai tanto volume, dipende da come ti posizioni sul mercato. Ritorna un pochino sui suoi passi e dice che se almeno il 50% o più dell'energia consumata dai miners sia rinnovabile a livello mondiale, allora probabilmente Tesla andrà di nuovo ad accettare bitcoin come strumento di transazione. Insomma questo tweet secondo me ha fatto partire di nuovo un pochino di entusiasmo, su questo non c'è alcun dubbio. Attendiamo quindi quello che succederà nel momento in cui si incroceranno le medie mobili perché quello secondo me sarà un momento cruciale. Mi aspetto magari un retest su quello che è il supporto dei 30 o giù di lì più o meno quello dell'intervallo per poi magari vedere bitcoin tornare a salire molto 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 più forte. Ma parlando sempre di bitcoin c'è una notizia secondo me fantastica, fantastica perché Taproot è stata finalmente loccata all'interno della blockchain di bitcoin. Quindi il set di attivazione che consisterà in un soft fork avverrà a novembre, però questo passaggio è fondamentale. Vorrei sottolineare, l'abbiamo già trattato più volte Taproot, che questo è un avvenimento veramente importante per quanto riguarda l'intero environment. Perché come dice all'interno di questa citazione l'articolo, noi con Taproot siamo di fronte a uno dei cambiamenti e dei miglioramenti a livello di protocollo più grandi dal Segwit. Il Segwit è un altro protocollo, un'altra implementazione che è avvenuta ed attivata nell'agosto 2017 e qui siamo quindi veramente ad un punto di svolta molto importante con Taproot. Tra l'altro, piccola curiosità, se andiamo a vedere Taproot.watch esce questa informazione che è stato finalmente loccato. Ma per quanto riguarda i grandi investitori, a che punto siamo? Come viene valutato il mercato dagli istituzionali? Io partirei da Michael Saylor, che è un pochino di parte, ovviamente, perché è il CEO di MicroStrategy. Conosciamo e sappiamo quanti fondi ha MicroStrategy in criptovaluta, in particolare in Bitcoin. Ma in un episodio di Fast Money, che è un evento della CNBC, lui ha letteralmente informato il pubblico e anche ovviamente gli investitori, di quanto sia importante l'investimento di Bitcoin, che è riconosciuto come Digital Gold, quindi come l'oro digitale, all'interno di un grande network nuovo tecnologico. E questo era più che assodato, considerando che ad oggi, più che oro digitale, siamo di fronte a uno strumento, per adesso, speculativo, che si sta formando per diventare sicuramente una riserva di valore. In più, ha continuato ed ha sottolineato quanto sia importante detenere Bitcoin, ma quello che è più importante è questa sezione che io ho evidenziato, dove lui ritiene che il mercato, nel momento in cui partirà, nel momento in cui acquisirà sempre più interesse dal pubblico, ma non solo, anche dagli istituzionali, ci sarà sicuramente spazio per tutti. Per tutti inteso che ci saranno anche progetti in cripto che potranno essere ed avere un importante ruolo all'interno della fintech, in particolare del settore cripto. Diciamo che io sono pienamente d'accordo con Michael Saylor, considerando anche che il mondo della DeFi è un mondo disruptive, e è difficile che scomparirà, a meno che non ci siano delle regolamentazioni molto stringenti che ne bloccheranno l'utilizzo. Questo è l'unico limite per quanto riguarda la finanza decentralizzata. Lì ci saranno, secondo me, delle controversie molto forti, perché stiamo letteralmente eliminando il servizio che viene svolto dalle banche. Quindi eliminiamo l'intermediazione e viviamo all'interno di un mondo, e lavoriamo all'interno di un mondo dove c'è disintermediazione. A conferma anche del fatto che l'investimento Bitcoin è comunque di interesse generale, c'è questa piccola survey che viene citata da Bitcoin Archive, dove il 98% degli hedge fund si aspettano di investire in Bitcoin e nelle cripto nei prossimi 5 anni. Questa è una notiziona, secondo me. È ovvio che queste notizie si devono caricare, sono tante piccole notizie che noi becchiamo ogni settimana per quanto riguarda gli istituzionali. Gli istituzionali sono lenti, ma con calma entrano, e quando entrano vuol dire che c'è interesse nel mercato, quindi questa è una cosa molto importante. Ma tralasciando un attimino quello che è Bitcoin, io vi vorrei parlare un po' di quello che sta succedendo nell'ambiente di Polkadot e di Kusama, che ho oggettivamente lasciato indietro, ma proprio per mancanza di tempo. Tra l'altro c'è un progetto molto interessante per quanto riguarda Polkadot e Kusama, di cui non vi posso assolutamente parlare, ma ci sarà tempo per discuterne. Non vedo l'ora di parlarvene qui sul canale, sarà molto molto interessante soprattutto per voi, a sottolineare questo articolo di quanto potenziale ci sia in particolare su Polkadot, perché Kusama è il canari network, quindi il network che viene utilizzato per testare protocolli che verranno poi successivamente aggiunti al network principale di Polkadot. e in questo caso vi informo che sono state approvate le prime slot auction per le parachain. Molto interessante questa cosa, significa che siamo ad un buon punto per quanto riguarda lo sviluppo della blockchain, in particolare di Kusama. Vedremo probabilmente le prime slot auction di Polkadot nel 2022, non prima è stata data orientativamente questa informazione, ma è molto interessante perché si lavorava da tanto allo sviluppo delle parachain, e se andiamo a vedere su Polkadot.js per quanto riguarda la sezione di Kusama, ecco qui i crowdloan e le auctions che trovate in questa sezione. Teoricamente noi possiamo contribuire quindi ai crowdloan, quindi a dei progetti che vogliono andare poi ad andare in auction, in asta per ottenere una parachain, possiamo partecipare a questi progetti e ovviamente otteniamo dei reward, magari sotto forma del token dello stesso progetto. Ci ha dato la possibilità di lavorare con il network di Kusama e il network di Polkadot un exchange. L'exchange in questione è Kraken. Io Kraken l'ho discusso e l'ho citato poche volte all'interno del canale, ma vi informo che è uno dei miei exchange che più mi piace e che più utilizzo, soprattutto per quanto riguarda anche la possibilità e la rapidità su determinati servizi come questo. Sicuramente alla base e a livello di classifica Binance rimarrà quello con più servizi e quello più completo, ma dobbiamo sempre avere un ottimo set di exchange con differenti funzionalità e differenti casi d'uso. Per questo video è tutto, vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fin qui, vi invito a lasciare un mi piace se il contenuto vi è piaciuto, lasciate qui sotto in descrizione le vostre considerazioni sull'attuale mercato delle criptovalute, vi mando un grossissimo saluto e ci vediamo ad un prossimo video. Grazie a tutti!